musica 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 e buon ragazzi mi è venuto in questo nuovo video come sempre su TheCroid e siamo ben tornati al nuovissimo vlog e nella street of games oh mi ha rotto il c***o basta mi ha rotto le p***e che ogni volta che devo fare un intro ogni volta lui deve sempre venirmi a rompere le p***e mi lasci fare questo intro da solo per i fatti miei e voglio stare bene tranquillo ogni volta musica 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 nel mentre ragazzi gli altri stanno registrando appunto scherzi ma non sanno che oggi sarò io a trollare loro perché in mezzo a questo casino io ho nascosto una cosa in mezzo a tutto ma io qua avevo nascosto una cosa non è che l'hanno già trovata e se la son portata via e adesso eccola 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 guardate qua ragazzi oggi ah no se sono smontata oggi ragazzi ritorno allo scherzo della trombetta e questa trombetta ragazzi è la trombetta da stadio oggi andremo a fare un troll devastante a tutti i ragazzi della stream house mi raccomando rimanete sintonizzati perché ci sarà da ridere vi dico solamente che sarà qualcosa di infarto e quello che farò io è andare a nascondere il telefono fare finta di niente nel mentre mi porterò dietro questa e li spaventerò però prima di fare ciò adesso ci siamo andati a preparare tutti quanti perché adesso quello che dobbiamo fare è andare a comprare un nuovo televisore super mega al plasma gigantesco eccetera eccetera per la stream house 2.0 let's go si va si va in questo momento ragazzi abbiamo seminato alve e quello che vogliamo fare è arrivare prima di lui al granreno e di conseguenza fare finta che lo stavamo aspettando già da un sacco lì ok perciò dopo ragazzi li faremo pesare che lui è lento ok ma lui è lento a dopo raga abbiamo appena notato hanno preso un'altra strada ragazzi e ci hanno superato sono davanti a noi però ovviamente essendo che noi guidiamo con prudenza ma andremo a fare il sorpasso solo ed esclusivamente in tangenziale ok ragazzi c'è alve che si è messo a fare il dito medio lì eh si è messo a fare il dito medio l'infame adesso voi non l'avete visto ma dentro questa 500 alve ha fatto il dito medio io aspetterò solo ed esclusivamente che saremo in tangenziale e in tangenziale ragazzi guardalo guardalo qua ovviamente non si possono superare perché c'è la linea continua però in tangenziale ragazzi vi faremo vedere la polvere che lasceremo loro mi deludere in tangenziale tranquillo sport entra qua modalità sport guardalo guardalo che non mi vuole far passare hai visto non si fa così ragazzi guardalo che poi fa con la manina va bene va bene va bene va bene va bene guarda che spinge guarda che spinge ma è andata è presto ma f***o ma f***o mi raccomando boys cioè ragazzi stavamo andando in giro mentre siamo venuti qua da primark a fare un salto e raga ho trovato delle cose qui che c'è guardate questa però non avete capito che cosa c'è dietro no vabbè raga scrivetemi qui sotto nei commenti se secondo voi la devo prendere secondo me la devo prendere adesso poi guardate multitasking qua tengo le due tute che ho preso adesso che non costano niente però ci prepariamo già per l'inverno però questa raga questa raga è tanta roba ragazzi non me lo vogliono far comprare perciò di conseguenza io vi prometto che se questo video arriva a 5000 like entro 24 ore io verrò qua pur di venire qua da solo e comprerò tutte le cose anime che troverò perché innanzitutto guardate questa tuta quanto cavolo è bella guardate questa tuta di dragon ball tutta abbinata con la carta di albe arriviamo a 5000 like entro 24 ore farà quella tua carta 10.000 like entro 24 ore ragazzi ti compro tutto guardate qua The Moonslayer vi prego ragazzi un video bomba 15.000 con la sua invece no 15.000 con la sua no 15.000 con la sua no permesso ragazzi eccoci qua abbiamo fatto un po' di shopping però vi giuro che c'ho sempre dentro quella roba di tutti gli anime che abbiamo visto arriviamo ai like perché albe mi da la carta di credito è fregato ragazzi svuoto tutto quattro monopattini una super mega tvs 85 pollici e in più di vestiti let's go like 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 ragazzi sono appena ritornato a casa sto parlando a bassa voce gli altri devono ancora andare a parcheggiare perciò adesso quelli a cui farò primo lo scherzo è sblito e ussa perciò andiamo a vedere quello che stanno facendo no 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 che anche però ricordi da here mo mo no adesso ragazzi aspettiamo che arrivi albam è qua lo aspettiamo al varco Ma quanto è forte è quella che fa anche eco E' una flashback Ma sono saltato dal bancho Mi sono troppicciato dal bancho Porca miseria No, no, no Secondo me abirisce una spalla Sapelo cosa stai facendo Infatti gravo ho sentito il casino Magari ha spostato Il cavolo Casino Fra appena arrivano loro Il telefono secondo me nemmeno lo notano Pensano che... Io ho una No, 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 quel cavolo che bella davo Torna con me poi Eccoli 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 raga sono arrivati Mi hanno appena suonato perchè hanno bisogno di qualcuno Che li apra Perciò io dirò che lascio nuovamente Il telefono qua A questo giro Ok Oh Arrivo Arrivo Sì 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 Proprio adesso Proprio adesso Mentre io la tengo sempre nascosta qui La mia arma speciale Ok Ciò abbiamo Andiamo Quante le castighe Quante le castighe hanno dato Sapete che è l'unico Che viene fermato anche dalle ragazze A me ci sono i maschietti Tra l'altro dai 13 ai 16 Ragazzi Le attira tutte Le attira tutte Una roba incredibile Sì Cioè questa Io ho con il sangue che puzza ragazzi Ma sei scemo, oddio! Vincere i cugli, ecco tu! No, mi ha fatto in un gioco la cuglia, guarda! Me l'ho fatta nell'orecchio proprio! Fra, ci senti tutti i cugli! Volevi pusharmi, eh? Volevi pusharmi! Non hai capito che è troppo potente sto coso! Non puoi pusharmi quando hai in mano... Non ti sento! Volevi, ti sei stunnato lì! Wow, 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 che giudizio! Fra, non devi pusharmi quando hai in mano lo scettro del potere! Ragazzi, io direi che siamo arrivati fino alla fine di questo video, perciò mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per... Scusate, esplode! Aiuto, aiuto! Attivate la campanellina per non perdere i prossimi video di Seymouth 2.0! BIl numero 9! Willy! anna da 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 da! ti, il numero 9! Fa, lì! vi, ti sei toca come aveva, lei c'è Carlson. Grazie.